Sono stati sufficienti sette giorni di riflessione e mea culpa al basketiseo per dimenticare la sconfitta patita contro Gallarate e tornare al successo. Vittima designata dal Saturday Night Sebino, Gazzada Schiano messa al tappeto grazie ad un primo periodo di gioco disputato alla perfezione, nel quale i lacustri hanno saputo mettere nero su bianco, ha referto ben 32 punti in 10 minuti. Nonostante la perdurante assenza di Filippo Veronesi, la squadra di coach Matteo Mazzoli si è presentata nel Varesotto, imponendosi fin da subito con ritmi vertiginosi. Inutile il tentativo locale di limitare l'offensiva dei Bresciani vincenti per 81 a 66. Ora qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie in attesa dell'insidiosa trasferta di Busto Assizio, che proprio lo scorso weekend ha sgambettato l'Olimpia Lumezzane per 91 a 73.